E' sempre più urgente la necessità di costruire una rete di percorsi di orientamento tra le scuole e le imprese che implementino una formazione mirata per il raggiungimento di quelle competenze che favoriscono l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Con questi obiettivi oggi è stato firmato un accordo quadro tra la Camera di Commercio di Arezzo Siena e l'Ufficio Scolastico Regionale perché si possano realizzare questi percorsi di orientamento attraverso l'alternanza scuola-lavoro, percorsi formativi specifici, percorsi universitari e di aggiornamento dei docenti. Si tratta di una collaborazione che ovviamente riguarda molti istituti, molti aspetti che sono legati all'indirizzo di quelli che sono i bisogni da parte del mondo delle imprese di figure professionali e di profili che ovviamente la scuola può raccogliere nella loro offerta didattica e nella loro capacità di formare quelle che sono le figure che il mondo del lavoro ovviamente richiede. Quindi è un lavoro che ovviamente facciamo investendo anche molte risorse attraverso voucher che vengono utilizzati sia per l'accoglimento all'interno delle imprese di studenti che sono alla fine del percorso formativo, quindi quarto e quinto anno, la possibilità appunto di individuare gli ambiti attraverso il progetto che noi facciamo in Celsior che ovviamente raccoglie la domanda di lavoro, quindi delle figure professionali che anticipano le richieste e i bisogni del mondo delle imprese e sui quali ovviamente la scuola può formare quelli che sono i progetti, i programmi di lavoro per le figure professionali del domani che dovranno essere disponibili per andare in conto alle esigenze delle imprese. L'aspettativa degli studenti è sicuramente quella di maturare competenze specifiche nell'ambito professionale con la conseguente possibilità di ottenere un impiego lavorativo in tempi brevi. Il Camera di Commercio è il trade union naturale tra il mondo della scuola e il mondo delle imprese. Abbiamo portato avanti tanti progetti e tante iniziative, adesso si è trattato di dare una cornice, un quadro di organicità a questo rapporto che ormai dura, ripeto, da diversi anni, ha dato molti frutti ma ancora li deve dare soprattutto in un momento in cui ancora ci dicono purtroppo le statistiche che un terzo di quello che richiedono come profili professionali le imprese ancora non riescono a trovarlo e questo è un dato da cui bisogna partire e cercare appunto di trovare delle soluzioni in maniera insieme. Quanto ha influito questo periodo di pandemia sul rapporto tra i studenti e il mondo del lavoro? Ha influito abbastanza per quello che riguarda ovviamente le attività concrete, cioè tutto quello che poteva essere fatto nel mondo delle imprese. Quindi mettere a frutto questi percorsi di alternanza scuola-lavoro con iniziative che potevano portare a sperimentare anche cosa significa lavorare in azienda, cos'è il lavoro creativo, che cosa anche un studente può apprendere soprattutto in vista di quello che sarà il suo futuro professionale. Credo che questa parte sia mancata, bisogna recuperarla in maniera, ripeto, organica e il protocollo di intesa che stamattina abbiamo siglato con l'ufficio scolastico territoriale regionale è sicuramente la strada che consente di mettere in pista iniziative strutturate nel tempo proprio per rendere ancora più concreto questo rapporto tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro.